Buonasera, oggi il 24 aprile, siamo sempre a parlare del mistero del Covid-19 e non posso fare a meno di registrare le continue demonizzazioni e i continui attacchi con tentativi di ridicolizzazione che vengono praticamente portati contro Luc Montagnier per aver detto che il virus contiene degli innesti sintetici, quindi una manipolazione, e sia del professor Giulio Tarro, tra l'altro amico di famiglia, nativo di Messina, amicissimo della mia famiglia di parte materna. Il tentativo di ridicolizzazione di questi due scienziati, che cosa nasconde? Nasconde questo ragionamento. Bisogna dire che sono degli scienziati inattendibili perché così si dimostra l'inattendibilità della loro tesi sul coronavirus come uscito da manipolazioni in laboratorio. Perché se il virus si dimostra essere falsamente naturale, si possono giustificare la somministrazione di centinaia di vaccini, perché come è successo adesso succederà in futuro. Mentre invece, se il virus fosse di laboratorio, diventa più difficile imporre alla popolazione la somministrazione di vaccini. Poi bisognerebbe parlare della trascrittasi inversa, dei retrovirus. osservo solo che molti stanno dando, per certo, francesi in primis, e non solo montagnero, mi riferisco, che essendo stato il virus della SARS anch'esso costruito in laboratorio, cosa mai detta al pubblico se non da qualche addetto ai lavori, ed essendo il virus della SARS scomparso da solo, non essendo mai stato trovato un vaccino, la stessa cosa potrebbe tranquillamente avvenire in questa ottica interpretativa anche per il Covid-19. Attualmente non è disponibile un vaccino per la SARS, per cui la immunizzazione passiva si è dimostrata efficace nella protezione dal coronavirus SARS, suggerendo quindi un ruolo importante nella neutralizzazione degli anticorpi. Nel frattempo, gente come Alberto Mantovani, terminale dell'Humanitas e di altri interessi, ieri da formigli non ha fatto di meglio che sbeffeggiare Montagnè. Questo praticamente si ricollega al discorso che facevo prima. La demonizzazione di Montagnè e degli altri scienziati e biologi che sosterranno l'origine sintetica del virus non si arresterà. Neanche di fronte alla evidenza di alcuni minorati mentali che sostengono che il virus è naturale, quindi neanche di fronte all'evidenza dei fatti, avremo modo di assistere alla cessazione dell'operato di questi minorati mentali che non saranno disposti ad abdicare. E non me ne vogliano i minorati mentali. Qui abbiamo dei minorati mentali titolati accreditati. Sembra quasi che si sentano più sicuri di sguazzare nella tragedia imposta dagli altri affannati mentali al comando, perché così l'epidemia colpisce i cervelli. Quello che bisognerebbe considerare sono gli insegnamenti di Platone. Tutti gli effetti devono avere una qualche causa che li porta a verificarsi, in quanto avere un effetto senza una causa è completamente impossibile. E questo lo diceva Platone nel IV secolo a.C. nel Timeo. Io credo che noi qui, sul giornale popolare, stiamo facendo la storia del XXI secolo. La stretta ferrea e censoria sul Covid-19 è iniziata. Vaccini imposti, applicazione immuni, mascherine obbligatorie per salire in bus e tram o metro. La comunità scientifica accreditata, perché per essere accreditati, tra virgolette, bisogna dire solo certe cose. Lancia profezie di scenari apocalittici e parla all'unanimità di virus naturale, sfigurando la figura di un Nobel del 2008 in medicina. Ma sul concreto quotidiano registro questo. Se sei Covid-19 positivo, ti dicono che devi stare a casa e non ti danno a disposizione né la Zitromicina, lo Zitromax, che è introvabile, né l'idrossicloricina e il Plagnil, ritirata da tutti i depositi farmaceutici. Vediamo se cambia qualcosa. Ti puoi curare solo con tachipirina, cortisone e fluidificanti per la tosse, oltre ad eparina a basso peso molecolare. Gli antivirali, tipo il Remdesivir, te li danno solo se vai in ospedale. Tutta questa stretta imposta da interessi di case farmaceutiche, i medici di base la subiscono impotenti. Anche loro hanno capito che se si vuole continuare a capire quello che sta avvenendo, è chiaro che viene imposto un vaccino, con tutte le conseguenze che questo comporta, ammesso che lo si riesca a fare. Sono preoccupato per questo e nessuno mi potrà impedire di pensare che qualcosa di esterno, oltre all'inettitudine e presunta delle strutture sanitarie lombarde, sia avvenuta in Lombardia. Seconda zona rossa mondiale dopo Wuhan, con diffusione massiccia di ceppi virali. Non si sa bene come. La stessa logica mi porta a pensare che le profezie per una seconda ondata virale da parte dei virologi mainstream, che hanno preso il posto dei politici, siano guidate dallo stesso network Ombra, che deciderà la diffusione di omiceppi localizzati nel meridione italiano ed in Africa. Lascio ad altri l'analisi interpretativa di ciò che stiamo vivendo. Sì, certo, il pipistrello sfigato che si fa a 900 km, dopo essersi infettato di SARS, malaria, perché Montagnia ha detto che contiene germi della malaria, il Covid-19, HIV, quindi questo pipistrello sfigato, si fa a 900 km, dopo essersi infettato di SARS, malaria, HIV e forsebola, arriva al mercato di Wuhan, anzi no, prima caga su un pangolino. Certo, tutto naturale, naturalissimo, come i dottor morte. Arrivederci.